Il Senato e la Camera dicono sì al documento di economia e finanza. Il Movimento 5 Stelle dice che in primavera si andrà a quota 100 per le pensioni, ci sarà il reddito di cittadinanza, intanto però spariscono i soldi per le periferie nonostante i contratti già firmati. Il Partito Democratico. Renzi punta su Minniti, gli orfiniani potrebbero presentare un loro candidato. A livello locale che cosa cambia, quali potrebbero essere le conseguenze? Ne parliamo nel numero 321, anno nono, di A Porte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. È deputato del Partito Democratico, rigorosamente orfiniano, per la componente del Presidente nazionale del PD. Si è candidato alla segreteria regionale del partito nel Lazio, quello in cui tutti pensavano che si sarebbe candidato Francesco De Angelis, che invece ha lasciato l'area e la candidatura. Benvenuto all'onorevole Claudio Mancini. Grazie. Tra poco ci raggiungerà l'onorevole Francesca Gerardi, deputato della Lega Montecitorio, dove è membro della Commissione Finanze. Intorno alle 20 è finita la seduta, è orgogliosamente salviniana. Lei chiederemo di alcune delle decisioni che riguardano direttamente i territori. A proposito di territori, il sindaco è stato tra i primi a fiondarsi sui fondi con i quali trasformare e recuperare le aree della città e anche, vi va detto, fortunato perché è riuscito a portarsi a casa il progetto e soprattutto la collaborazione di uno dei massimi esponenti dell'architettura contemporanea, Renzo Piano. Benvenuto al sindaco di Sora, Roberto De Donatis. Sindaco di Ponte Corvo, consigliere provinciale di Frosinone, componente del gruppo di Forza Italia, partito per il quale frequenta il coordinamento provinciale, ma non è andato alla Convention di Fiugi. Benvenuto al dottor Anselmo Rotondo. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Avevamo invitato le onorevoli Enrica Segneri e l'aria Fontana del Movimento 5 Stelle. Cortesemente ci hanno informato che a causa di precedenti impegni istituzionali non potranno essere in trasmissione prima di novembre per chi hanno tutti i giovedì impegnati fino al prossimo mese. Le aspettiamo quando potranno e vorranno, saranno nostri graditissimi ospiti. Stesso invito avevamo tentato di estendere anche all'onorevole Luca Frusone, ma non siamo riusciti a contattarlo e quindi ce ne scusiamo con il nostro pubblico. Anche a questo numero di apporte aperte potete dire la vostra, potete commentare, potete proporre domande. 334 39 444 00 per un messaggio via WhatsApp. 334 39 444 00. Cominciate a scrivere onorevole Mancini. Documento di economia e finanza. Insomma, via a quota 100 sulle pensioni. Ci sarà il reddito di cittadinanza, ma loro hanno fatto bene a mandarvi all'opposizione. Ma noi siamo molto preoccupati perché per il momento la mia cosa certa è che questa decisione di aumentare l'indebitamento del Paese la stiamo pagando con l'aumento dei tassi di interesse. Quindi aumenterà gli interessi, questo avrà effetti sia sul debito pubblico, che costerà di più, sia sull'economia delle famiglie perché aumenterà il costo dei mutui, anche il finanziamento alle imprese diventerà più caro. E quindi per il momento gli unici veri effetti di questi annunci, perché non ci sono ancora le leggi, ma c'è solo un documento di previsione, hanno prodotto una crisi dei mercati che già stiamo pagando concretamente. Un momento soltanto, onorevole, vediamo se tecnicamente spiego bene, a casa lei cortesemente mi corregga dove non dovesse essere puntuale la ricostruzione. Praticamente noi produciamo come ricchezza, come Paese, 100, ma far funzionare questo Paese costa 130 per pagare gli stipendi alla polizia, ai carabinieri, ai medici che sono all'interno degli ospedali, per mettere il nafta all'interno della caldaia con la quale cammina l'impianto di riscaldamento dell'ospedale di Sora o di Cassini. La spesa pubblica. Quindi il Paese ci costa 130, ma noi produciamo 100 e quei 30 dove li prendiamo? Mica si va in banca e si chiede un prestito, non esiste una banca che ti dà il prestito a un Paese. Si prende questo nostro debito, questa nostra differenza e si colloca sul mercato. Cioè noi diciamo ai risparmiatori, senti mi dai i tuoi risparmi, io in cambio ti do un tasso di interesse. Ecco quelli erano i buoni del tesoro con i quali prima si risparmiava tantissimo, ci si investiva molto, ci si faceva la casa una volta quando a distanza di 10 anni si ritiravano quelle cedole dei buoni del tesoro. Ma che cosa accade? E se nessuno li vuole? Se non ci fidiamo, se fuori non si fidano e dicono l'Italia poi non pagherà questi tassi di interesse, non ce la può fare a sostenere il peso di questi interessi, ecco che se le comprano le banche interne che hanno meno soldi da prestare. Ed era il ragionamento che ci faceva l'onorevole Mancini. Quindi avere dei soldi in prestito costa di più. Questo è naturalmente il punto di vista del Partito Democratico. Poi chiederemo alla parlamentare della Lega se è convinta o meno di questo, approfitto della sua presenza onorevole anche per un altro quesito. Boeri dice così avremo più di 100 miliardi di debito, sarà un danno per i giovani. Boeri è il presidente dell'Inps, i giovani dovranno pagare questo debito, ma tra le varie cose sono spariti i soldi per le periferie dei comuni come Sora, come Ponte Corvo, come Frosinone, che venivano finanziati per prendere delle zone che magari non erano cresciute al pari delle altre, erano rimaste indietro nello sviluppo e quindi potevano essere rivitalizzate. Quei soldi sono spariti. Perché? Il governo ha deciso di cancellare questo finanziamento in realtà senza una vera ragione, nel senso che i soldi c'erano, i progetti erano approvati, è più una ragione politica che finanziaria. Dicono che la colpa è vostra perché non c'erano le coperture. Ma questo non è vero. Chi lo dice che non è vero? Lo dice il fatto che i finanziamenti erano già stati attribuiti, quindi sono stati deliberati nella scorsa legislatura e quindi le coperture andavano trovate in questa. Quindi la Corte dei Conti aveva detto che i soldi ci sono e aveva certificato che i soldi c'erano. Però vi dicono pure che era incostituzionale quella legge. Cioè dare dei finanziamenti ai comuni? La Corte ha detto che dovevate fare un passaggio con le regioni e concordare il metodo di attribuzione ai comuni. Questa, diciamo, la verità è che è stata rivendicata dal governo e che si è considerato questa operazione come un'operazione politica del governo precedente e quindi la si è voluta colpire. Tant'è che poi ai comuni che hanno protestato attraverso l'Anci è stata data rassicurazione che si tenterà di recuperare questi stessi progetti in futuri provvedimenti. In realtà se c'erano problemi di questo tipo si potevano affrontare subito anziché togliere i finanziamenti, trovare le coperture e affrontare anche i rilievi della Corte dei Conti. Momento soltanto, Sindaco De Donatis, cosa significa avere a che fare con uno Stato che quando governavano quelli dell'On. Mancini taglia, taglia, taglia e ogni anno vi arrivava di meno? Adesso cambiamo colore al governo, tolgono direttamente il finanziamento sul quale c'era la bollinatura della Corte dei Conti che diceva sì sì, i soldi ce li abbiamo, voi presentavate i progetti, cominciavate ad avviare magari i cantieri e poi, bella mia, i soldi non ci stanno. Che cosa significa avere a che fare con un governo così direttamente per voi sindaci? Direttore, il discorso è molto complesso perché sicuramente per i comuni i trasferimenti nel corso degli anni si sono sempre ridotti e quindi oggi il Sindaco veramente affronta una condizione quasi di frontiera perché le difficoltà sono enormi. E' altrettanto vero però che nella precedente esperienza di governo e quindi io parlo come Sindaco e se è insediato da due anni, si inizia a lavorare programmando investimenti, facendo le progettazioni, cercando di reperire fondi, avendo poi dei contatti con gli enti sovracomunali e quando si stabilisce una linea progettuale poi può accadere, come sta accadendo, che tutto viene rimesso in discussione. Ecco, il punto vero della politica è che si disfa quello che è stato fatto in precedenza. Non c'è certezza. Questa discontinuità mette in grosse difficoltà i sindaci perché io potrei dire che oggi noi potremmo, visto che abbiamo ad esempio a Sora i tre quarti del bilancio che sono destinati al sociale, forse il reddito di cittadinanza, che è un tema comunque di sinistra, che bisogna dire anche il reddito di inclusione, l'è stato precedentemente messo in programma, però con una platea diversa, con fondi diversi da parte del precedente governo, in linea di principio può essere un provvedimento giusto perché può sgravare i comuni di quella spesa sul sociale che oggi sostengono. Però è altrettanto vero che bisogna vedere la sostenibilità di questi provvedimenti e per questo chiaramente il dibattito è molto acceso. Momento soltanto, diamo il benvenuto all'onorevole Francesca Gerardi che, come avevamo detto in precedenza, ci ha raggiunto direttamente da Montecitorio. Buonasera, dove è stata impegnata fino a poco fa nelle attività della Camera dei Deputati, dicevamo via libera dal Senato e dalla Camera, la risoluzione della maggioranza Movimento 5 Stelle lega alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che impegna tra l'altro il governo a introdurre la quota 100 per anticipare l'uscita pensionistica e avviare il reddito di cittadinanza e la flat tax. In pratica abbiamo risolto tutti i problemi, onorevole? Almeno ci stiamo provando a risolvere i problemi, anche perché di poco fa c'era anche il collega Mancini insieme a me e il discorso che ha fatto il Ministro Savona, credo che sia stato un discorso esaustivo, ha fatto una panoramica su quello che saranno i punti generali di questa manovra, che non sono solamente quelli che ha citato lei, ma è una manovra abbastanza complessa. Poi naturalmente in corso d'opera, se ci sarà qualcosa da rivedere, si rivedrà con molta umiltà, ma sicuramente le intenzioni sono buone, ci sono tutte e non abbiamo lasciato nulla di intentato a caso. Premesso che tutti i governi sono armati delle migliori buone intenzioni, non esiste uno che vada lì con intenzioni cattive, però adesso la cosa da capire è che il vostro elettorato è quello che diceva prendete delle risorse e finanziate ad esempio l'imprenditoria affinché crei nuovi posti di lavoro e con quei posti di lavoro l'economia possa crescere, cresce l'economia, cresce l'IVA, ci sono più acquisti, più gente a lavoro e quindi il paese riparte. Di fatto vi trovate ad approvare un provvedimento come il reddito di cittadinanza che non va proprio in quella direzione. È una necessità che vi pesa in qualche modo? Io credo che bisogna fare un attimino perché una precisazione, il reddito di cittadinanza non è una sorta di mantenimento per i fannulloni, questa cosa va demonizzata perché ormai si associa questo reddito di cittadinanza a una sorta di contentino che bisogna dare per cercare di mantenere chi non ha intenzione di trovarsi un posto di lavoro, assolutamente no. Il reddito di cittadinanza è un progetto che è strutturato anche perché prima di tutto ci sarà come tutti ben sapete il potenziamento dei centri dell'impiego e poi chi riuscirà ad accedere al reddito di cittadinanza, naturalmente dopo una dovuta selezione, perché non è che si dà a tutti, chi arriva gli viene dato e dice ti diamo il reddito di cittadinanza perché sei simpatico e carino, dovrà comunque dimostrare di intraprendere un percorso lavorativo, quindi accanto ai centri dell'impiego e soprattutto con questa somma che gli verrà elargita, non è che può andarsi a comprare i grattevinci o altre cose che non voglio menzionare, ma comunque potrà solamente acquistare beni di prima necessità, queste sono delle chiarificazioni che vanno fatte perché purtroppo da tutte le parti sentiamo messaggi differenti o soprattutto viene colpito, si entra a campatesa su questo reddito di cittadinanza, bisogna spiegare che cos'è il reddito di cittadinanza. Di fatto come fate a controllare cosa ci fa uno con i soldi? Ci sarà comunque un organo di controllo, non è che noi arriviamo e diamo a tutti quanti la tesserina con la somma di denaro sopra, comunque ci saranno degli organi che comunque dovranno andare a controllare che spese vengono fatte, ma soprattutto a chi verrà dato questo reddito di cittadinanza e ci terrei a sottolineare una cosa, perché ho letto sui vari social, ah verrà dato a Rom extracomunitari, il reddito di cittadinanza, e lo ribadisco e lo sottoscrivo, verrà dato agli italiani. I Rom sono italiani. Verrà dato agli italiani. I Rom sono italiani, è un'etnia, sono cittadini italiani, hanno la carta di identità italiana, nato in Italia, ma i Rom sono un'etnia, non sono stranieri. Comunque verrà dato agli italiani che avranno veramente bisogno e necessità. Quindi anche i Rom. Verrà dato agli italiani che hanno necessità e bisogno di questo sostegno per reintrodursi nel mondo del lavoro. Poi sentiremo anche l'onorevole Mancini su questo. Prima però c'era un tema che avevamo appena iniziato a introdurre con il sindaco di Sora. Tra le cose che sono sparite per poi finanziare, tra le varie cose anche il reddito di cittadinanza, i fondi per le periferie. C'era il sindaco di Frosinone, Nicolo Ottaviani, che era contentissimo perché diceva adesso mi sono presentato a questo progetto, sono stato bravo, sono riuscito a fare questo progetto che adesso mi trasforma completamente quella tristezza che c'è quando si esce di fronte alla stazione ferroviaria. Trasformo tutta questa zona nel nuovo salotto di Frosinone. Finalmente ci faccio una piazza con dei giardini, ci metto la chiesa nuova con la nuova facciata. 18 milioni di euro. Un progetto talmente bello che le ferrovie e la conferenza episcopale italiana mettono altri 10 milioni di euro per un totale di 28. A un certo punto il sindaco tutto contento dice adesso cominciamo a fare i progetti, chiamiamole ditte, c'aveva pure il bollo della Corte dei Conti, legge dello Stato, questa cosa si fa, scopre che non si fa più. Perché gli avete tolto i soldi, povero Nicolo Ottaviani? Il problema è che la domanda di il rettore non la deve rivolgere a me, ma la deve rivolgere agli esponenti del PD perché il pasticciaccio l'hanno fatto loro, non l'abbiamo fatto noi. Perché l'hanno fatto loro? Non l'abbiamo fatta noi questa cosa, quindi noi abbiamo solamente preso in mano quella che era la situazione, anche perché molti progetti sono stati presentati, addirittura alcuni comuni hanno presentato più di un progetto, quindi forse c'era qualcosa che non andava. E noi abbiamo, ci siamo accertati naturalmente delle vere e proprie necessità di alcuni comuni. Cioè che pasticci hanno fatto quelle del PD? Tenga presente che per il bando periferie erano stati stanziati queste famose cifre che poi sono state, insomma, sono state ampliate, diciamo, in questo modo. Il problema è che alcuni comuni hanno presentato più di qualche progetto, ma erano dei progetti che però non avevano una finalità vera e propria di necessità di riqualificare determinate zone. Nel caso di Frosinone riqualificava o no? Ma io adesso il progetto vero e proprio di Frosinone non l'ho letto che cosa volesse farne il sindaco Nicola Ottaviani, però per quello che è su base nazionale addirittura erano stati i proposti dei progetti in delle zone del tutto isolate di mettere delle biblioteche. Secondo me una biblioteca non deve stare in una zona dimenticata da Dio, ma deve stare al centro di una città. Magari può rivitalizzare? Ma io credo che in una zona isolata non ci possano essere, raggiungere su alcune zone del tutto isolate una biblioteca. Nel caso di Frosinone non volevano mettere una biblioteca, volevano rifare tutto il quartiere dello Scalo. Appunto un progetto che conferenza episcopale e ferrovie mettevano altri 10 milioni, quindi hanno ritenuto che fosse buono. Hanno ritenuto che fosse buono, ma infatti non tutti i progetti verranno buttati nel secchio della spazzatura. Non tutti i progetti verranno buttati nel secchio della spazzatura, solamente ci sono alcuni comuni che potranno accedere, ed altri con i quali i progetti non saranno ritenuti validi che non potranno accedere. Quindi non è che è chiusa la partita su Frosinone, però bisognerà vedere l'effettiva. Cioè la partita su Frosinone non è chiusa? Noi abbiamo momentaneamente, solamente rivisto il bando delle periferie e ci siamo resi conto che c'erano dei progetti che non potevano essere ammessi. Ci sono dei progetti che sono ancora in corso. I sindaci sostengono una cosa diversa, infatti sono venuti a manifestare l'altro giorno, sostengono che voi abbiate completamente tolto. No, assolutamente non è così. Non è così? Ma assolutamente non è così. Quindi Frosinone ha ancora delle speranze, ha ancora delle possibilità. Ripeto, io non sono a conoscenza del progetto di Frosinone, me ne informerò sicuramente, perché adesso mi ha messo la buccia all'orecchio, quindi me ne informerò. Abbiamo fatto, abbiamo svolto la nostra funzione sociale. Onorevole Mancini, di fatto l'impiccio l'avete fatto voi, ha detto la sua collega, è colpa vostra, ma insomma fate delle leggi che poi loro debbono rimetterci le mani, ma perché fate le leggi pasticciate? Come si è capito, in realtà non c'è nessun pasticcio, c'è solo la volontà di dire, è stato deciso da quelli di prima, cambiamo la decisione. I progetti al momento sono tutti fermi, i finanziamenti sono stati cancellati. Di fronte alle proteste dei sindaci, c'è attraverso l'Anci, c'è stato un impegno del governo a valutare che in futuro potranno essere ripresi in altri provvedimenti. Però quello che adesso è successo è che 2 miliardi di euro, di investimenti che potevano essere attivati rapidamente, sono stati fermati. Qual è la ragione per cui si procede con finanziamenti così importanti? Perché si cerca di favorire progetti che abbiano un impatto significativo, per evitare che siano frammentati a pioggia, perché è chiaro che se concentri, puoi fare un intervento significativo come quello pensato a Frosinone, se dividi per 90 comuni su tutta la provincia, dai un piccolo finanziamento a tutti, con cui si fa un po' di manutenzione. Quindi l'idea era fare finanziamenti strutturali. Cioè l'idea era non piccoli interventi per rifare l'asfalto. Mi devi rifare? Un quartiere deve tornare a vivere. Se tu intervieni su una periferia che è degradata, o fai un intervento significativo che ne cambia la natura, in quel caso il Comune di Frosinone ha scelto la zona dello scalo della stazione, un intervento importante con il concorso anche di altri soggetti che partecipavano a quell'intervento. Ma la vostra legge era buona o no? Perché ha detto allo suo collega che... Io penso che intervenire con finanziamenti ai comuni per sbloccare gli investimenti sia giusto. Una delle cose gravi di questo DEF che è stato approvato oggi è che la previsione sugli investimenti è ridicola. C'è lo 0,2% del PIL che vuol dire che loro prevedono, e di fatto la Lega ha accettato la posizione 5 Stelle, che tutte le grandi opere pensate e finanziate e già avviate in Italia saranno fermate perché prevedono pochissimi investimenti. Allora, la creazione di posti di lavoro, perché poi i centri per l'impiego non è che devono funzionare pure bene, ci deve essere domanda di lavoro. Uno dei sistemi con cui si crea lavoro sono gli investimenti pubblici. Se tu blocchi gli investimenti pubblici perché vai appresso a tutti quelli che protestano contro qualsiasi opera, succede quello che sta succedendo, che in Italia c'è il blocco di investimenti pubblici e quei soldi verranno distribuiti in spesa corrente che non fa investimenti. Qua ci stanno due sindaci. Lo sanno benissimo, se tu togli i soldi dagli investimenti, li metti sulla spesa corrente, diciamo, il primo anno fai felici tutti i cittadini perché sono tutti contenti che gli hai messo i soldi in tasca, ma tra un po', non essendoci le opere pubbliche, noi avremo i danni verso il sistema dell'impresa, verso il sistema occupazionale, verso opere che non si fanno che sono necessarie e quindi pagheremo i danni di questa operazione che è un'operazione elettorale. Cioè tutti sanno che ci sono le elezioni europee a maggio e quindi stanno facendo una legge di bilancio al dicembre che scassa i conti dello Stato perché devono andare in campagna elettorale. Momento soltanto, sindaco Rotondo, visto che l'onorevole la chiama in causa, se abbiamo qui i sindaci, chi più di loro sa quali sono i problemi concreti della gente, beh, insomma, era meglio quella norma che avevano fatto loro che dava i soldi per risistemare le periferie oppure era fatta così male e quindi, poverini, i nuovi entrati hanno dovuto bloccarla perché non funzionava. Anche noi a Ponte Corva abbiamo presentato durante la scorsa legislatura presieduta dal Presidente Gentilone, un progetto di sport e periferie che rientra in questi progetti che sono stati deviati e rimandati al 2020, leggo oggi. Per cui il mio appello è più un appello da colleghi di maggioranza, visto che l'onorevole Gerardi è anche la capogruppo di maggioranza, affinché ci sia l'intervento della Lega sul Movimento 5 Stelle che sblocchi questi fondi, che per noi sono fondamentali, perché il nostro progetto, che già ha visto l'approvazione del definitivo e approvato dal CONI, necessitava solo della firma del Presidente del Consiglio. Lei usa un'espressione, Sindaco, lei dice che sono bloccati. Un parlamentare che c'era nella scorsa legislatura, che è l'onorevole Nazareno Pilozzi di Acuto, dice no, non sono bloccati, li hanno presi, li hanno messi da un'altra parte, cioè sono andati a finanziare quei comuni che hanno l'avanzo di bilancio, cioè che avevano dei soldi che erano avanzati, che non potevano toccare per via di una serie di parametri previsti dalla nostra legge. Quali sono i comuni che hanno l'avanzo di bilancio? In genere sono tutti i comuni che stanno al nord, quindi secondo la chiave di lettura di una persona che appartiene a un altro partito, non il suo, quindi il PD, dice quei soldi non è che sono bloccati, non ci stanno più. Secondo lei? Secondo me invece sono stati differiti soltanto e l'intervento appunto dell'onorevole Gerardi dovrà servire a sbloccare quello che per noi di Ponte Corvo è un finanziamento fondamentale, perché per la nostra realtà due milioni di euro per costruire una nuova piscina comunale che rispecchia tutti i parametri del FIN e quindi potrebbe ospitare anche gale regionali con, ripeto, progetto approvato, definitivo ed esecutivo e quindi mi auguro che ci sia un ripensamento su questo differimento, anche perché l'onorevole Mancini ha parlato di 2 miliardi di euro, ma credo di aver letto che siano 4,100 i miliardi di euro di finanziamenti che sono stati differiti al 2020. Mi fa venire in mente una cosa, lei parlava di sport, il suo collega di Sora è stato criticato aspramente perché ha fatto un progetto che puntava a riqualificare un'intera zona partendo dallo sport, se non sbaglio si parlava di golf, insomma lei l'hanno fatta come San Lazzaro, insomma hanno detto che lei era un visionario, era un folle, prendeva dei soldi per giocare a golf nella periferia di Sora, ma che cosa si è messo in testa, alla fine questo progetto per il golf ha sviluppato qualche cosa, prevede lo sviluppo di qualcosa di attorno, perché secondo lei ha un senso quel progetto? Innanzitutto parliamo del mini golf, quindi è un'attività sportiva che coinvolge famiglie da un aspetto ludico legato più a attività sociali compatibili anche con la parte urbana della città sulla quale interveniamo. In realtà con il mutuo del credito sportivo che è la fonte del finanziamento di questo progetto, noi riqualifichiamo un'intera area perché ce lo consente appunto la legge, ce lo consente la possibilità di utilizzare l'aspetto ludico e sportivo per poter ampliare la possibilità progettuale e riqualificare un'intera area. Questo è quello che accade in un quartiere martoriato di Sora trascurato da circa 40 anni che finalmente avrà la riqualificazione della piazza, la riqualificazione anche della viabilità e in più anche il mini golf che sarà anche un elemento attrattore di famiglie e di parti sociali che sono interessate a questo tipo di sport. Vediamo gli sms, i messaggi arrivati via whatsapp 334 39 444 00 continuate a mandare i vostri messaggi 334 39 444 00 vediamo che cosa hanno cominciato a scrivere da casa grande il nostro sindaco Anselmo Rotondo ancora non è candidato su sono un cittadino del rione Napoli vorrei sapere quando partono i lavori di riqualificazione fortemente voluti dal consigliere Bruni Onorevole Gerardi abbiamo votato Lega per un vero cambiamento per delle riforme che avrebbero aiutato l'economia dei piccoli imprenditori artigiani commercianti e liberi professionisti se volevamo il reddito di cittadinanza votavamo 5 stelle questa non è la manovra di centro-destra che volevamo Onorevole Gerardi ci può ragguagliare sulla eliminazione delle accise sui carburanti visto che in questi ultimi giorni aumenta quotidianamente il prezzo della benzina e della diesel è il lavoro a noi giovani caro sindaco De Donatis in questi due anni non molto si è visto ma tanto ho letto su diversi progetti che possono essere importanti per la città può relazionare e dirci a che punto sono Onorevole leghista si batta perché nel partito in Parlamento non venga sempre prima Latina e poi Frosinone Zicchieri non può prendere tutto per sé Forza Salvini Mancini va bene le critiche a questo governo ma non dimentichi quello che ha combinato il suo di governo un saluto Sindaco Rotondo risolleviamo Forza Italia si dia più spazio a persone come lei il nostro onorevole è Anselmo Rotondo per ora è sindaco e quei soldi dove sono finiti fatemi capire noi giovani per andare avanti cosa dobbiamo fare dobbiamo rubare allora li prendiamo in ordine di apparizione Rione Napoli vuole sapere quando partono i lavori di riqualificazione voluti dal consigliere Bruni quando li fate partire? Siamo nella fase dell'approvazione del progetto esecutivo dopodiché c'è la procedura di affidamento della gara siamo fiduciosi per la primavera 2019 di iniziare che lavori sono? Sono quei lavori di cui parlavamo poc'anzi quindi la riqualificazione della piazza 13 gennaio della piazzetta in distante il quartiere Rione Napoli e appunto il mini golf che è l'elemento ludico che appartiene a questo progetto Onorevole Gerardi il messaggio diceva noi volevamo un vero cambiamento volevamo riforme per aiutare l'economia i piccoli imprenditori gli artigiani i commercianti se volevamo il reddito di cittadinanza mica votavamo la Lega votavamo il 5 Stelle Allora intanto volevo dire già una cosa prima e colgo l'occasione per dirla adesso probabilmente il collega Mancino a cui io voglio bene e lui lo sa siamo anche colleghi di commissione quindi ci confrontiamo su tante cose probabilmente ha perso una parte dell'intervento del ministro Savona dove si parlava proprio di tutto quello che verrà dato destinato agli investimenti perché c'è da chiarire che noi non siamo contro gli investimenti anche perché tutto ciò che è investimento significa crescita e futuro e noi siamo per la crescita e futuro e non per la regressione quindi questo sia ben chiaro in più quando ci oggi c'è stato anche detto in aula addirittura siamo stati aggrediti verbalmente comunque dalle opposizioni proprio su la questione delle elezioni europee le elezioni europee intanto si terranno tra un anno da qui a un anno noi abbiamo tantissime cose da attuare come quelle che stiamo già facendo e abbiamo già dimostrato cose in quattro mesi che in sette anni di governi che ci hanno preceduto non sono mai state fatte quindi gli italiani sono stati accontentati con 80 euro queste cose vanno anche dette quindi ci lasciano il tempo per poter lavorare perché abbiamo dimostrato già ampiamente tutta una serie di cose quindi ci devono lasciare lavorare per chi ha votato la Lega dico che la Lega sta facendo quello che ha detto in campagna elettorale lo sta attuando e lo attuerà ho sempre detto anche nelle altre mie i miei altri interventi che noi siamo in un contratto di governo quindi siamo due forze politiche che partono da due posizioni diverse ma che comunque vanno tutte e due a convergere su quello che poi è il benessere degli italiani dei cittadini e di crescita economica e ripeto di investimenti quindi non è che tutte le somme che sono state stanziate adesso per le grandi opere verranno bloccate le grandi opere servono e comunque verranno fatte per quanto riguarda il messaggino sulle accise che chiedeva ci può raccogliare sull'eliminazione delle accise sui carburanti perché proprio ieri e oggi sono stata tempestata di messaggi da parte di alcune persone che mi dicevano proprio per il prezzo del carburante le accise ricordiamo sono delle piccole aggiunte che vengono fatte al costo del carburante e quindi ad esempio bisogna finanziare qualche cosa noi aggiungiamo al costo del carburante questa piccola somma in più che è destinata a un progetto ben preciso ancora noi ci stiamo pagando la campagna di Eritrea noi stiamo pagando ancora le guerre sulle accise cioè stiamo pagando delle cose assurde e vorrei sottolineare anche il fatto che l'unico partito che insomma si è fatto avanti per togliere le accise è stato proprio la Lega quindi non i governi precedenti e neanche altri altri partiti quindi ci stiamo muovendo in questo senso però onestamente abbiamo anche problematiche più impellenti da portare avanti ma quello delle accise lo ha ripetuto anche Matteo Salvini in un discorso in una diretta che ha fatto questa mattina comunque verranno tolte le accise su Facebook vi ricordano che aveva detto che le avreste tolte alla prima seduta del Consiglio dei Ministri direttore nella prima seduta di Consiglio dei Ministri abbiamo avuto molto da fare anche nella seconda e anche nella terza quindi insomma non c'è stato il tempo per toglierle no le toglieremo ma ripeto magari ce l'aspettavano gli avevate detto la prima ripeto abbiamo avuto governi che ci hanno preceduto che hanno avuto ampio tempo Mancini avete avuto ampio tempo e non avete combinato niente guardi qui è come la formica e la cicala noi abbiamo lavorato dopo la più grande crisi economica che c'è stata per tenere insieme il paese mettere a posto i conti del paese e i fondamentali economici dell'Italia sono a posto questi qua appresso alle promesse elettorali che hanno fatto hanno annunciato perché poi raccontano che hanno fatto ma in realtà non hanno fatto hanno detto che faranno poi vedremo la legge perché qui si parla di provvedimenti che non ci sono ancora sia racconto di ipotesi chiediamo questo aspetto non c'è ancora il DEF non decide niente il DEF dice noi faremo questo poi ci vuole la legge di bilancio che traduce le cose che ha detto la collega su come si fa il reddito di cittadinanza sono ipotesi sui giornali ma poi ci vorrà la legge che lo prevede e questo succederà nella legge di bilancio nella legge di bilancio verranno messi questi provvedimenti con l'entrata in vigore prima delle elezioni europee che sono a maggio quindi siamo di fronte a una manovra elettorale che viene finanziata mettendo mano ai conti dello Stato che sono stati risanati col sacrificio degli italiani in questi anni perché aumenta l'indebitamento l'indebitamento porta all'aumento dei tassi di interesse e tutti pagheremo di più chi c'ha il mutuo pagherà di più chi deve finanziare l'impresa pagherà di più lo Stato pagherà di più per finanziare il proprio debito e passate le elezioni europee e arriveranno il momento in cui purtroppo a fine del 2019 quando saranno finiti le entrate del condono perché questa roba in verità la finanzieranno col condono che si fa una volta 20 miliardi li prenderanno là prendono 20 miliardi col condono poi dal 2019 non ci saranno più i soldi e ci sarà il problema però intanto avranno preso i voti europei questa è la manovra ho dimenticato di dire una cosa che nel DEF abbiamo stanziato anche un miliardo e mezzo per i truffati delle banche che di certo per gli azionisti no per i truffati per gli azionisti avete messo i soldi per gli azionisti no assolutamente noi abbiamo stanziato un miliardo e mezzo per i truffati delle banche delle banche e di certo per la prima volta forse è questo lo scontro che c'è con l'Europa perché l'Europa ci attacca tutti i giorni collega non ti avventurare non ti avventurare perché quando arriverà il provvedimento vedrai che sarà per gli azionisti vedrai che sarà per gli azionisti davanti a Porco sono pronti a scommettere pensano tutti quanti lo portiamo a cena insieme lo portiamo a cena insieme chi ci ha torto paga conviene farmi un vestito io vi ho avvisati diciamo che la verità sta nel mezzo perché poi ecco il bello della politica è questo cioè i diversi punti di vista su una stessa cosa in effetti nessuno dei due sta mentendo dice l'onorevole Gerardi noi abbiamo messo un miliardo per chi è stato truffato dalle banche dice l'onorevole Mancini attenzione quello che tu chiami truffati sono delle persone che hanno investito i loro risparmi nelle banche come le hanno investiti comprando le azioni hai fatto un investimento diventando socio perché hai comprato delle azioni e hai fatto un investimento sbagliato quindi attenzione perché tu stai in questo momento dando i soldi agli azionisti della banca discorso diverso è se l'impiegato della banca il cassiere ti ha proposto un acquisto in maniera onesta oppure in maniera truffaldina ma quello è un altro procedimento quindi l'aspetto politico su questa cosa hanno ragione tutti e due solo che secondo la sensibilità della Lega si tratta di piccoli risparmiatori che sono stati truffati secondo la sensibilità del partito democratico attenzione quello è stato un investimento si può discutere di quello che volete ma quelli comunque sono degli azionisti questa è la politica due sensibilità diverse sindaco Rotondo e qui c'era un messaggino che era per lei ma questo è un invito a nozze perché questo dice risolleviamo forza Italia si dia più spazio a persone come lei sindaco lei non è andato a fiuggi alla convention di Antonio Italiani e ora mi racconta perché non c'è andato perché lì c'è stata la processione da tutta l'Italia e lei da Ponte Corvo dice io a fiuggi non ci vengo non ha bisogno delle acque termali lei? le acque termali ce le avete offerte stasera qui a Teleuniverso quindi bastavano 8 chilometri per avere e dissetarsi con bicchiere di acqua a fiuggi non sono andato per diversi motivi principalmente perché la domenica quando c'è stato l'intervento del presidente Berlusconi in concomitanza si sposava l'onorevole Ciacciarelli ed ero invitato al suo matrimonio per cui la domenica l'abbiamo trascorsa più piacevolmente il sabato? il venerdì e il sabato quest'anno dopo attenta riflessione non è stato un matrimonio così lungo tre giorni un baccanale assolutamente però dopo attenta riflessione ho deciso di non partecipare e perché? perché perché innanzitutto a fiuggi si parlava del futuro si parlava del futuro ma bisogna prima conoscere approfonditamente il presente di un partito addirittura il passato perché chi vi sta parlando sono 24 anni che milita in un unico partito quello unico quello solo io infatti portavo un cartello dove c'era scritto non sono in vendita se fosse andato non è andato a fiuggi per protestare per dire voi mi state proponendo un futuro di Forza Italia ma non avete idea del presente di Forza Italia assolutamente perché qual è il presente spesso vengono additati o vengono occasionalmente attaccate le persone che possono dare di più al partito che ne hanno dato in passato e che ne possono dare sicuramente in futuro quando invece si pensa che alcuni dinosauri del passato con lo 0,01% possano offendere gli alleati perché poi dobbiamo parlare sempre di un partito che sta in una coalizione di centrodestra e nessuno che rappresenta Forza Italia si scende a difendere un forse il sindaco più rappresentativo della provincia del partito senza nulla e senza offendere gli altri perché non credo che tutti quelli che dicono di essere di Forza Italia siano tesserati da 24 anni come me secondo lei non c'è il merito dentro Forza Italia c'era un po' la lamentela che faceva Nicola Ottaviani dove dice ma fondamentalmente noi non stiamo facendo crescere una classe dirigente selezionata in base al merito quindi ci sono sindaci che si sono messi sulle spalle città con dei problemi enormi hanno dimostrato di riuscire a risolvere questi problemi noi li teniamo lì non gli facciamo fare un passo in avanti non li coinvolgiamo nella crescita del partito è questo quello che lei lamenta? Assolutamente lo abbiamo visto anche con le candidature il 4 marzo quando sono dovuti scendere da Milano candidati quando qui in provincia c'erano e ci sono autorevoli candidati che rappresentano il territorio senza nulla togliere all'onorevole Giacomoni che è un'ottima persona ad altre persone candidate nel nostro partito ma che non rappresentano affatto il mio o il nostro territorio quindi il rispetto è anche questo ma c'è di più direttore nel coordinamento precedente all'ultimo fu avanzata un'ipotesi che ritengo essere quanto meno anomala e cioè la non ricandidatura dei tre consiglieri provinciali uscenti di Forza Italia la non candidatura per una sorta di rinnovamento allora era vero allora il rinnovamento era vero che c'era stata la proposta della non ricandidatura qualcuno l'aveva avanzata però credo che come in un paese quando un sindaco riesce a portare avanti un'intera anche a me avevano detto che non era vero ma l'ero inventato io quindi pur a lei risulta che non volevano farvi ricandidare mi risulta e quando un sindaco riesce a portare avanti una legislatura intera 5 anni perché poi lei capisce bene qui abbiamo un altro sindaco lui è stato amministratore lei è amministratrice onorevole e capisce che poi nelle maggioranze spesso si tenta lo sgambetto per farci cadere a noi l'opposizione Pontecorvese ad ogni panettone ad ogni torrone ad ogni colomba brindavano che non saremmo arrivati a quella però ne sono passati già 4 e quindi siamo abbondantemente pieni di panettoni e di torroni hanno tentato tutto e non ci riescono e quando un sindaco si avvia a una fine legislatura quantomeno è scontata la domanda sei candidato per la seconda quindi ci dovrebbe essere a riconferma a meno che uno non decide personalmente di fare un passire noi ripartiamo da questo perché devo chiamare la pubblicità un minuto non vi muovete perché ripartiamo da qui seconda parte di a porte aperte sempre in diretta su Teleuniverso ho interrotto il sindaco Rotondo sulla pubblicità quando mi ha detto sì era vero nel precedente coordinamento provinciale di Forza Italia c'è stato chi ha detto che noi consiglieri provinciali uscenti non ci dovevamo ricandidare domanda secca risposta secca ma tra i motivi dell'arrabbiatura c'è anche il fatto che a conti fatti come sostiene il suo collega di Forza Italia di Sora Alessandro Mosticone qui hanno già intortato il risultato e quelli che verranno eletti di fatto saranno Ciccone nel caso in cui non dovesse essere eletto presidente perché verrà candidato e quindi Mario Abruzzese lo ha blindato tanto quanto si sostiene ha blindato anche il sindaco di Piedimonte San Germano ma nel secondo coordinamento cioè l'ultimo io ho spuntato insieme al collega Magliocchetti mancava Rossella Chiusaroli che è arrivata poi quando stava terminando il coordinamento che i tre consiglieri provinciali comunque saranno candidati e non nelle liste del presidente ma nelle liste di Forza Italia per cui questo glielo do per certo quindi già ci sarà una candidatura Tommaso non avrà problemi a essere candidato consigliere in quanto sarà eletto presidente perché i numeri e il lavoro che sta facendo l'intera coalizione di centrodestra sulla figura di Tommaso Ciccone con orgoglio dico che sono stato il primo sindaco a sottoscrivere la sua candidatura anche perché è persona seria persona coerente persona onesta e meritava questa candidatura importante per cui penso che si sia liberata quantomeno una casella perché Tommaso Ciccone non farà il consigliere ma farà il presidente Onorevole lei oggi ha avuto difficoltà a uscire da Roma a causa del maltempo questa città come viene amministrata dai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle se proprio lo vuole sapere ma non è una battuta ma è veritiero me lo ha raccontato un tassista perché a Roma ci si muove spesso in taxi e quindi per mia fortuna ho ascoltato un pochino tutte le campane certo come in ogni città Roma si porta dietro comunque un fardello di amministrazioni che non l'hanno valorizzata di certo per quello che è e quindi anche credo che il Movimento 5 Stelle come tante altre città d'Italia dove sono andate ad amministrare si stanno comunque trovando in mano un conto salato non da poco hanno ineditato una brutta situazione come viene governata in questo momento Roma a Roma fa schifo in questo momento viene governata da schifo con un totale disinteresse qui ci stanno i sindaci i sindaci si devono svegliare presto la mattina e occuparsi dei problemi cittadini qui c'è una sindaca che è sparita da quando è sotto processo c'è una giunta di sconosciuti nei municipi non accade nulla ma si vedono solo le reti arancioni con cui si perimetrano i pericoli per cui si chiudono saremo sommersi dai rifiuti perché nei prossimi giorni con lo sciopolo dell'Ama andremo al collasso perché non si affrontano le decisioni sugli impianti cosa che anche il Ministro dell'Ambiente del Governo attuale ha certificato non si fanno perché il Comune non si prende la responsabilità di farli è tempo loro dicono che la colpa è della Regione giusto così il Ministero il Ministro Costa i suoi tecnici hanno spiegato che la responsabilità è del Comune che la Regione deve aspettare l'indicazione da parte del Comune l'ha detto il Ministero che è gestito da un esponente tra l'altro indicato di 5 Stelle ma vi siete pentiti poco poco di avere fatto cascare Ignazio Marino ma guardi Ignazio Marino era arrivato alla fine della sua esperienza oddio lui non la pensava così beh intanto l'inchiesta su cui era indagato è portata a condanna nel secondo grado e purtroppo il rapporto con la cittadinanza era compromesso quindi noi abbiamo ritenuto che quell'amministrazione non fosse in grado di affrontare i problemi della città questa certo fa rimpiangere anche l'amministrazione Marino perché comunque nell'amministrazione Marino c'era un lavoro c'era un'attenzione a risolvere i problemi la cosa che è impressionante a Roma non è le difficoltà le difficoltà della città sono note la cosa che è impressionante è che c'è una compagine di amministratori che non fanno neanche danno l'impressione di volersene occupare sindaco De Donatis una città deve comunque essere governata i fondi abbiamo visto attraverso la progettualità europea in alcuni casi possono arrivare sul territorio lei si è inventato il credito sportivo dicendo io parto da un campo da mini golf poi intanto attraverso quel finanziamento posso rifare marciapiedi posso rifare lampioni posso comunque cominciare a rivitalizzare tutta quanta una zona e comincio a metterci mano però qui si sta parlando anche di investimenti strutturali per cercare di cambiare la fisionomia ad una città allora lei sono due anni che è al governo di Sora ha anche competenze tecniche considerate il lavoro che svolge che è un architetto e di fatto questa città come sta cominciando a cambiarla come intende realizzare questo cambiamento qualche cosa l'ha già messa in cantiere premesso quello che hanno detto anche gli altri ospiti e cioè cinque anni sono quello che è necessario per avviare le opere se si è fortunati se ne comincia a concludere qualcuna un mandato intero dovrebbe essere dieci anni ma lei ha cominciato a mettere qualche cosa in cantiere o no? beh diciamo che i primi due anni servono proprio a questo iniziare una programmazione ad avere degli obiettivi a me piace citare oltre al progetto di cui abbiamo già parlato della riqualificazione del rione Napoli piace parlare della scuola innovativa quella a firma del senatore a vita Renzo Piano l'architetto io ritengo più famoso del pianeta da architetto lo dico da collega perché sicuramente per lui parla la sua storia professionale e come si fa a centrare questi obiettivi partendo da un'analisi del territorio perché noi abbiamo un territorio estremamente fragile è una fragilità che ha una natura sismica una fragilità che ha una natura idraulica per la presenza dei fiumi e anche idrogeologica vaste aree del nostro territorio sono della zona più pericolosa quella R4 e quindi bisogna partire dalla programmazione come ad esempio noi abbiamo fatto nel caso della delocalizzazione del mattatoio che si trova nel centro della città per realizzare una scuola da qui c'è stato poi l'incontro anche voglio dire l'interesse da parte del dipartimento di Casetari che ha inserito la città di Sora in una delle dieci città a modello e poi l'incontro con questo straordinario maestro dell'architettura che voglio precisare mette a disposizione il fatto che a senatore a vita mette a disposizione proprio il suo compenso come senatore per creare un gruppo di progettisti che fanno riferimento chiaramente a lui e per donare progetti alle amministrazioni che però si incontrano sotto l'aspetto programmatico e progettuale quindi è un incontro fra una programmazione che abbiamo messo in campo sin da subito e un progetto innovativo non solo sotto l'aspetto architettonico ma mi preme sottolineare anche sotto l'aspetto didattico e sociale una community school e questo si va a inserire in un progetto più ampio di riqualificazione e di rigenerazione urbana che vede coinvolte aree che necessitano anche di altri fondi parlavamo prima dei fondi periferie che io mi auguro vengano seriamente riprese in considerazione dal governo per aree come ad esempio l'ex centro se rapide e nonostante queste situazioni noi abbiamo messo in campo anche un progetto di sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione finanziata sempre attraverso il mutuo del credito sportivo di una pista ciclabile perché il nostro territorio è pianeggiante e sicuramente una mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo della bicicletta è un obiettivo da centrare quindi comunque un'idea di progettualità c'è gli sms ne sono arrivati tantissimi in merito anche dei nostri ospiti sentiamo da casa al 334 39 444 00 solo messaggi via whatsapp hanno lavorato sodo per le banche e per gli amici e mi ci mette il soggetto perché qui non sappiamo chi è buonasera chiedo a questa signora ministra come mai le scuole serali le avete tolte pur avendo classi con 50 persone e alla provincia no grazie le scuole del Sorano un po' ermetico nel nostro territorio di Frosinone non importa niente a nessuno questi politici del nostro territorio stanno per intascare i soldi ignorando i giovani guardate la regione Lazio tutti i trombati stanno imboscati nelle varie segreterie di partiti signora non mi risulta Anselmo il miglior sindaco che è stato a Ponte Corvo non lo so non sono di Ponte Corvo Onorevole Gerardi ci può spiegare cosa sta succedendo nella Liga Cassino bravo Rotondo e De Donatis saranno candidati alle prossime provinciali Rotondo ha detto di sì vediamo De Donatis una domanda per la Liga gli onesti italiani quando rivedranno i 49 milioni rubati dalla Liga cattivello ha ragione il sindaco di Ponte Corvo Luca da Isola di Lì su che cosa però ha ragione se no dice che ha ragione su tutto Onorevole Gerardi la Liga sosterrà l'emendamento della proroga del rifinanziamento della mobilità in deroga nell'area di crisi complessa Anagni Ceprano 2019-2020 carissimo sindaco Rotondo le sembra normale che Ponte Corvo abbia avuto un consigliere provinciale membro del CDA della SAF un membro del CDA del COSILAM e altri incarichi tutto grazie a Mario Abruzzese poi il 4 marzo Forza Italia esce sconfitta da Ponte Corvo ci dia una spiegazione e beh sindaco ci dia una spiegazione 3200 voti alle elezioni politiche per Forza Italia non mi sembra assolutamente una sconfitta perché siamo stati secondi soltanto per pochissimo al Movimento 5 Stelle che se lei mi chiedesse chi sono i rappresentanti ufficiali del Movimento 5 Stelle di Ponte Corvo non glielo saprei dire ne conosco alcuni solo per amicizie e conoscenza ma il risultato di Forza Italia di Ponte Corvo è stato straordinario i vostri numeri sono stati confermati o è mancato qualche cosa? sono stati in aumento come Forza Italia al Senato e alla Camera dei Deputati consideri che Ponte Corvo ha risposto in percentuale rispetto agli altri comuni con una percentuale pari al 28-27 28% che mi sembra quasi a livello nazionale essere un risultato straordinario lei comunque i voti a Forza Italia glieli ha portati io li porto sempre e solo a Forza Italia Onorevole Gerardi la Lega sosterrà l'emendamento nella proroga del rifinanziamento della mobilità in deroga per l'area di crisi complessa faccio una premessa per chi magari a casa non conoscesse l'argomento lo scorso anno il territorio della provincia di Frosinone che va da Ceprano fino a Anagni Paliano Fiuggi viene dichiarato area di crisi industriale complessa che cosa significa è crollato un sistema industriale che fa riferimento a un grosso grosso stabilimento in quel caso la Videocon ma la legge non vale solo per la provincia di Frosinone quindi si è area di crisi complessa si crolla un grosso stabilimento e Videocon erano circa 2000 dipendenti poi a cascata va giù tutto quanto l'indotto e tutta l'economia della zona lì si diventa area di crisi complessa quindi sono stati e è stata individuata questa zona come area di crisi complessa c'è stata una call dicendo signori investitori ma se noi vi diamo queste agevolazioni voi sareste disposti a investire in quest'area ci sono state delle manifestazioni di interesse a Invitalia che è l'agenzia nazionale che attira attrae gli investimenti gli investitori hanno detto fateci capire potremmo essere interessati il bando ha tardato a essere messo a punto per vedere chi poi materialmente voleva investire in quella zona qual era lo scopo dell'area di crisi complessa dire noi facciamo tornare degli imprenditori in zona facciamo gli investimenti e quindi ci sono nuovi posti di lavoro e quindi risolviamo la crisi nel frattempo però a causa di queste lungaggini i nuovi posti non sono stati creati dicono i sindacati in audizione dieci giorni fa dal ministro Luigi Di Maio dovete prorogare la mobilità per questi lavoratori perché l'area di crisi complessa è un progetto che non si è compiuto cioè non avete fatto in tempo voi del ministero a fare i bandi a far nascere le nuove fabbriche a vedere se qualcuno voleva farle nascere quindi dateci il tempo necessario datevi il tempo necessario e rifinanziate quindi questa mobilità pare che i soldi non ci siano adesso lei sa qualche cosa onorevole se c'è la possibilità o meno di finanziare rifinanziare la mobilità in deroga questa è la prima è la prima richiesta che ci è stata fatta al momento in cui siamo stati eletti poi quando sono si sono definiti comunque vari ministeri noi abbiamo un sottosegretario al lavoro che comunque è un ex sindacalista che si sta occupando proprio di questo è stato eletto anche nel nostro territorio l'onorevole Durigon con il quale abbiamo io almeno il collega Gianfranco Rufa l'onorevole Zicchieri comunque abbiamo preso parte agli incontri che sono stati promossi dal presidente Pompeo in provincia che benvengano questo tipo di incontri ai quali siamo stati invitati tutti noi eletti però se permettetemi e non lo dico con polemica questi incontri sono stati intensificati solamente in quest'ultimo in quest'ultimo periodo e non voglio aggiungere altro il presidente della provincia Antonio Pompeo sta cominciando a convocare i parlamentari eletti per ricordargli questi problemi soltanto ora direttore c'è da sottolineare il fatto che questo è un problema che non esiste dal 4 marzo ma esiste da più di qualche anno e prima di noi che siamo arrivati adesso ci sono stati deputati e senatori tra cui qualcuno di cui lei ha citato prima non mi pare che abbiano dato delle grosse risposte a differenza nostra con i quali abbiamo comunque abbiamo parlato anche con i rappresentanti di vertenza frusinata i quali ci hanno portato comunque tutte le varie documentazioni con le quali abbiamo preso un impegno perché noi dobbiamo trovare le risorse anche perché non possiamo lasciare queste persone senza uno stipendio quindi i soldi per la deroga devono essere assolutamente trovati e questo è un impegno che abbiamo preso e potremmo avanti io ho ottenuto l'area di crisi complessa perché quello è un lavoro fatto dalla provincia e gli onorevoli che dicevamo prima potrebbero dire non abbiamo fatto la settima e l'ottava salvaguardia che ha consentito a molti lavoratori di agganciare la pensione però la critica che fa la sua collega onorevole Mancini è molto molto precisa cioè vi state ricordando del problema soltanto ora non è soltanto ora adesso bisogna prendere la decisione nella futura legge di bilancio quindi è giustamente adesso bisogna che si prendano i provvedimenti perché il problema della scadenza è adesso quindi purtroppo io temo che nel prossimo bilancio avendo impegnato tutte le risorse sui provvedimenti di cui abbiamo parlato prima purtroppo i provvedimenti per sostenere le imprese negli investimenti saranno al centro della loro manovra però noi come opposizione faremo la nostra parte io lo dico subito ovviamente se c'è un emendamento che viene dalla Lega noi lo sosterremo anche dall'opposizione e quindi diciamo collaboreremo per parte nostra perché si risolva se ne parla o no di questo emendamento siete in due che state a Montecitorio cioè qui la domanda è molto semplice signori questo messaggio chiede ma di questi emendamenti se ne sente parlare? se ne parla se ne parla? se ne parla e già un passo avanti almeno se ne parla e si stanno facendo naturalmente tutte le dovute cautele del caso per cercare le copie però ci sono due possibilità o lo presenta al governo o viene presentato in Parlamento se lo presenta al governo passa sicuramente se non viene presentato al governo verrà presentato da noi come opposizione ma può essere presentato da un partito di maggioranza come la Lega e allora noi siamo pronti a votarlo e vediamo che fanno gli amici di 5 Stelle cioè voi non lo presentate proprio perché non volete che strumentalmente poi non ve lo voti allora prima bisogna vedere il provvedimento del governo se c'è la proposta da parte del governo passa e a quel punto diciamo la questione è risolta se non c'è la proposta da parte del governo è vero che comunque è proprio un invito a nozze dove mi dice senta ma che cosa sta succedendo nella Lega a Cassino me lo racconta pure a me perché direttore qui è più bravo lei a raccontarci perché lei ci fa sognare ogni giorno con i suoi articoli quindi no io la benedica la Lega la Lega a Cassino ha preso una posizione ben ben precisa anche perché noi siamo fondamentalmente per la chiarezza purtroppo non me ne voglia il sindaco d'Alessandro che è una degna persona però purtroppo non è stato molto chiaro per certi aspetti quindi avremo gradito un pochino più di considerazione di trasparenza su tante cose poi in maggioranza non ci sono io in amministrazione non ci sono io ma c'è il il dottor Palombo che è anche il coordinatore provinciale allora la linea politica è fino a maggioranza centrata o no? aspetti la linea politica c'è fino a un certo punto poi nelle realtà locali perché io faccio anche l'amministratore qui c'è anche il sindaco con il quale amministro sono tutta altra cosa non stiamo parlando di una politica a livello nazionale quando si amministra che è la cosa più difficile forse è più semplice stare in Parlamento piuttosto che stare su un comune e questo lo sappiamo ormai perché ci si scontra veramente in maniera sensibile con tante cose è tutta un'altra cosa quindi tra di loro ci saranno state delle incomprensioni da parte del sindaco non ci sono state delle dovute trasparenze su alcune cose quindi noi come vertici di un partito dobbiamo solamente che appoggiare quelle che sono le scelte fatte dal gruppo della Lega perfetto il gruppo della Lega dice che non vuole rientrare in maggioranza ora noi siamo con loro benissimo però adesso qui c'è una cosa che bisogna capire perché insomma lei amministra pure un comune il dubbio la domanda sorge spontanea ma che fate state alla finestra fino a quando non nevica il sindaco deve fare qualche cosa di particolare deve farvi la danza del ventre deve approvare qualche cosa di particolare per convincervi a rientrare in maggioranza oppure dopo il panettone lo si manda a casa e voi candidati uno dei vostri direttore io amministro il comune di Ponte Corvo non il comune di Cassino e però lei comunque nel coordinamento della Lega ci sta quello che succede nel secondo comune della provincia loro mi chiedono un consiglio e soprattutto mi espongono quelli che sono i loro malcontenti verso questa amministrazione io non posso che appoggiarli in tutto quello che fanno e che faranno ma voi puntate a una candidatura sindaco abbiamo finito adesso una campagna elettorale pensiamo a lavorare piuttosto che ce n'è bisogno le campagne elettorali al momento debito arriverà sindaco De Donatis dicevamo c'è questa difficoltà di interlocuzione con uno Stato che a prescindere dal colore politico taglia 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 e qui quant'è tre quarti del suo bilancio sono per aiutare la gente cioè per il sociale di fatto siete diventati una sorta di caritas oramai perché questa cioè se tre quarti del bilancio se ne vanno per fare la caritas un quarto se ne andrà per pagare gli stipendi e il carburante per tenere accesi i riscaldamenti durante l'inverno sulle opere lei può solo pregare che le approvino qualche progetto europeo di fatto per rivedere questa situazione che cosa dovrebbe fare questo governo o qualunque governo ci sia nei prossimi anni nel paese perché ho l'impressione che in queste condizioni cambiate la scritta togliete la la ruota dentata con la loro ci mettete la scritta carita se fate prima in effetti direttore oggi la vera notizia è che i comuni sono ancora aperti quindi che ci siano dei sindaci che degli amministratori che difendono le istituzioni forse la più antica del nostro della nostra storia della nostra tradizione è vero che abbiamo i tre quarti del bilancio sul sociale ma quando parliamo di sociale non parliamo solo di un'attività a sostegno del disagio sociale ma anche per erogare i servizi che appartengono alla comunità quindi questo per maggiore chiarezza io ritengo questo che la politica deve fare le proprie scelte sarebbe un po' ambizioso da parte mia dire cosa debba fare questo governo lo dicevo prima il limite è la sostenibilità dell'azione politica parlavo per esempio del provvedimento del reddito di cittadinanza per fare un esempio potremmo parlare della flat tax che è stata proposta dalla Lega entrambi questi provvedimenti corrispondono a due sensibilità diverse in modo particolare il reddito di cittadinanza potrebbe essere una sensibilità che è più rivolta a quel mondo dal quale provengo anch'io proviene l'onorevole Mancini è stata fatta anche dal precedente governo con il reddito di inclusione la platea era diversa i fondi dedicati erano diversi ora il vero problema è la sostenibilità rispetto a tutto ciò che avviene poi in un orizzonte più ampio e parliamo dell'Europa perché io da quello che leggo la mia vera preoccupazione qual è quando si parla di spread fino a qualche anno fa mi riferisco al 2011 qui c'è un esponente di Forza Italia è stata la ragione per cui è stato mandato a casa Berlusconi è stato uno dei cavalli di battaglia dello stesso Grillo leggevo oggi che le dichiarazioni del 2011 parlavano in modo chiaro che lui si rivolgeva al presidente napolitano e diceva mandiamo a casa Berlusconi perché è un pericolo pubblico semplicemente perché lo spread aveva palicato una certa soglia oggi questo problema non può essere più un non problema cioè lo spread o è un indicatore di una fiducia nei confronti del paese o non lo è ecco questo è il vero tema e quindi anche l'azione politica di questo governo se è sostenibile allora andiamo in una direzione che può essere anche condivisa rispetto a delle sensibilità diverse il problema è se non lo è noi come amministratori penso i sindaci oggi hanno il vero problema è che qui è come la tela di Penelope di giorno si fa e di notte si disfa perché ripeto rispetto alle progettualità io immagino perché il sindaco Nicola Ottaviani o il sindaco di Ponte Corpo o il sindaco di Sora sono preoccupati perché io mi sono insediato due anni fa ho iniziato un'interlocuzione con gli enti sovracomunali arriviamo a delle conclusioni sembra quasi che stia lì per partorire tutto questo lavoro finalmente una progettualità che possa essere concreta e applicabile invece poi ci ritroviamo che con un nuovo governo che chiaramente ha una sua programmazione il sindaco che è l'ultimo anello di questa congiunzione di questa articolazione amministrativa con gli enti sovracomunali sta lì e deve semplicemente capire come riniziare a tessere quella tela e sperare che ci sia un orizzonte più ampio per poterla portare a te sindaco Rotondo lei oltre che il sindaco nella vita perché non si campa facendo il sindaco è un imprenditore da imprenditore oltre che da politico e da imprenditore di una forza politica che non è al governo ma anzi ha avanzato una serie di perplessità con molta cautela perché questo poi vostro rapporto con la Lega è ambivalente un giorno Berlusconi gli lancia le truppe cammellate addosso l'altro giorno però comunque dice ma no ma torniamo insieme e comunque come imprenditore ritiene che i provvedimenti di cui parlava l'onorevole Gerardi possano essere stimolanti per creare nuova occupazione quindi nuova economia rimettere in carreggiata il paese ha detto benissimo non si campa attraverso l'attività amministrativa anche perché io ho rinunciato all'indennità quindi rinuncio a ben 3.000 euro al mese inoltre i risparmi sul bilancio del comune ci sono perché non utilizzo mezzi istituzionali quando vado in regione utilizzo la mia macchina la mia nafta il mio telepass senza richiedere indennità di missioni quindi ritengo che essere sindaco oggi almeno come lo faccio io è proprio essere un missionario ma da imprenditore accetterei la proposta della Lega sono d'accordissimo sulla flat tas perché questo permette il taglio delle tasse di poter rinvestire gli utili sulla propria azienda però avrei spostato i 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza proprio sulle imprese perché lei pensa che io ho una piccolissima impresa perché 5 dipendenti sono una piccola impresa ma se quei soldi fossero stati spostati sulle imprese e mi avessero dato la possibilità attraverso l'abbattimento della contribuzione o delle agevolazioni fiscali nulla avrebbe tolto di aver la possibilità di inserire immediatamente un dipendente nella piccola azienda moltiplicato per le grandi aziende invece di attendere che i centri dell'impiego si organizzino che si dia la possibilità a delle persone di poter avere questo contributo quasi assistenzialista quasi gratuito avremmo avuto la possibilità da imprenditori di poterlo subito investire e quindi assumere la richiesta all'onorevole di maggioranza le cito proprio ad adiuvandum come si dice in tribunale nel lontano 1988 chi le parla venne assunto in questa azienda perché c'erano i primi contratti di formazione e lavoro dove una piccola realtà perché all'epoca parliamo del 1988 dell'universo non poteva permettersi di avere uno sterminato numero di dipendenti come poi negli anni invece crescendo è riuscito ad avere nell'88 cominciò a fare le assunzioni a diventare azienda perché c'era lo Stato che disse per chi sviluppa nuove professionalità da posto di lavoro ai giovani con queste nuove forme di lavoro noi paghiamo per due anni i contributi oggi sono qui perché nell'88 ci furono i contratti di formazione e lavoro e una larga parte delle persone che adesso si avviano insomma a cominciare a guardare dipende dalla Fornero adesso c'è quota 100 quindi la vediamo un po' meglio verso la pensione di fatto noi venimmo assunti perché c'erano i contratti di formazione e lavoro per cui chissà se poi tra i vari provvedimenti così noi lo ricordiamo l'onorevole Gerardi magari in futuro guardando al passato e ai risultati che hanno portato quei provvedimenti degli anni 80 chissà magari si potrebbero replicare onorevole Mancini per concludere ma cosa ci dobbiamo aspettare lei è candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico ci doveva essere Francesco De Angelis invece c'è lei ma come mai? Francesco si è ritirato un mese fa dalla candidatura peccato che sarebbe stato un ottimo candidato che vi avete fatto? un ottimo segretario ma ha fatto un'altra scelta te l'avevo anche raccontata varie volte quindi diciamo io mi sono candidato per la segreteria siamo in tre insieme al senatore Bruno Astorre e a Andrea Le Manni che è vicepresidente del secondo municipio di Roma si vota il 25 novembre con le elezioni primarie possono votare tutti i cittadini ho presentato la mia mozione programmatica che chi è interessato può leggere diciamo sui siti su Facebook ovunque e quindi abbiamo iniziato il congresso un congresso tra i cittadini abbiamo detto se voleva venire in trasmissione a confrontarsi con la ha detto no ma è troppo presto quindi comunque per correttizia glielo abbiamo detto ma è come lo vuole cambiare questo PD nel Lazio noi dobbiamo avere un partito meno lideristico un gruppo dirigente più autorevole dobbiamo far comprendere le ragioni della sconfitta ma anche non fermarci fare l'opposizione purtroppo i disastri che si preannunciano al governo ci richiameranno in causa a breve e quindi noi stiamo dobbiamo ricostruire il partito democratico e prepararci facendo l'opposizione a una futura stagione Piazza del Popolo ha gridato unità unità ci sono tre candidati è un segno di vitalità o di divisione? no è di vitalità anzi diciamo per fortuna che ci sono l'unità non vuol dire un animismo l'unità vuol dire una linea politica su cui ci si trova d'accordo ma gli errori ci sono stati nel passato? beh altrimenti non saremmo stati penalizzati dagli elettori io penso che l'errore principale sia stato quello dopo aver perso il referendum di non essere andati subito alle elezioni abbiamo fatto un anno di un governo che ci ha allogurato allogurato il paese allogurato la nostra posizione politica comunque c'era stato sul sia referendum un 40% di italiani che sosteneva la posizione di riformista e di cambiamento se fossimo andati subito al voto probabilmente avremmo avuto un esito diverso il Presidente della Repubblica disse insomma queste cose non si fanno però è un punto di vista politico onorevole Gerardi cosa ci dobbiamo aspettare? dal PD? beh no non credo che insomma sia la persona deputata a potermi dare questa previsione però cosa ci dobbiamo aspettare da questo documento di economia e finanza? faccio gli auguri al collega perché insomma mi sta simpatico quindi faccio gli auguri a lui per la vittoria sulla segreteria regionale poi meglio un deputato che un senatore questo ma meglio il collega allora a questo punto quindi anche perché con lui abbiamo ci siamo trovati anche non ci crederete su diversi punti in commissione quindi tante proposte che sono state portate le abbiamo anche accolte quando loro dicono cose di buon senso rispetto alle 5 stelle cerchiamo di dargli una mano beh ero io promotrice di quel provvedimento quindi ero stata io rapidamente se non ci sfumano dicevamo non mi aspetto catastrofi anche perché non siamo non siamo persone che fanno i salti nel buio portiamo avanti quello che ci siamo preposti e sicuramente in corso d'opera faremo ancora meglio buon lavoro a tutti si occupa ancora di politica il secondo numero della terza stagione televisiva di Vista sul Golfo la rubrica settimanale di Teleuniverso dedicata al Sud Pontino tra pochi minuti dopo il confronto della scorsa settimana con il neosindaco di Formia Paola Villa la trasmissione condotta da Saverio Forti offrirà la possibilità a un rappresentante dell'opposizione consigliare di replicare e di rispondere punto per punto alle dichiarazioni del nuovo capo dell'amministrazione formiana a giudicare l'operato della nuova governance sarà il capogruppo del Partito Democratico e della lista Formia Bene Comune Claudio Marciano grazie ai nostri ospiti grazie a voi a casa porti a prima torna tra una settimana stessa ora stessa rete arrivederci